Su tutti voi, su tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica, su tutti voi che vivete la Messa viva, continua e palpitante, con Gesù, pane vivo, disceso dal cielo, su tutti voi che siete rinati dall'alto, per tornare ad essere bambini e poter vivere il Regno che qui nella Gerusalemme già è, scenda oggi copiosa e abbondante la benedizione del Padre, affinché per intercessione di Maria, Regina del cielo e della terra, corredentrice universale, possiate ottenere ogni grazia corporale e spirituale per voi e per tutti coloro che sono racchiusi nel vostro cuore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.